Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nona settimana, 4 maggio 2020, e lo scopo oggi sono quello delle lenti. Questo lo mettiamo qua. Ok, l'ultima slide che abbiamo visto la volta scorsa era questa. Quindi possiamo iniziare tutti gli effetti con lenti per vedere meglio come funzionano e quali sono i loro limiti principali. Ora, diciamo che innanzitutto ci sono tre condizioni dettate da Maxwell, che si occupò, come saprete, di moltissime cose molto diverse, tant'è che sono famose le leggi di Maxwell. Queste non sono le leggi di Maxwell, ovviamente, però sono tre anche queste. Sono tre e quindi loro dicono, queste leggi dicono che tutti i raggi, quindi una lente è perfetta, se soddisfa, quindi di fashion limit, comunque perfetta, se soddisfa tre condizioni. Ok? Allora, tutti i raggi da un punto dell'oggetto si incontrano di nuovo in un punto dell'immagine. Ok? Notate che questo tipo, questo tipo di, diciamo, di limite in realtà viene violato abbastanza di frequente perché naturalmente le aberrazioni fanno sì che un punto nell'oggetto non sia affatto uguale ad un punto nel piano di immagine. Poi un piano ortogonale a livello di oggetto ad un altro piano e riprodotto come un altro piano, come ortogonale anche lì. Quindi, per esempio, se io ho due, non lo so, un piano con un altro che si innesta sopra, ebbene, devono essere riprodotti con lo stesso rapporto. Notate che questo viene violato dalla curvatura di campo. E poi la terza dice che l'oggetto, la forma, le forme sia dell'oggetto che dell'immagine devono essere uguali, dato ovviamente l'ingrandimento. Quindi dato un certo ingrandimento, a parte l'ingrandimento devono essere uguali. Anche qui naturalmente questo viene violato da svariate aberrazioni. Ora, queste condizioni di Maxwell dicono che la lente, se è perfetta per due differenti distanze dell'oggetto, allora è perfetta per tutte le distanze. Ok? Non esistono lenti perfette, naturalmente. Ora, veramente, completamente perfette. Ora, come si fa a capire, diciamo, quantificare questo tipo di errore? Noi possiamo dire che possiamo cercare di identificare la bontà degli eventi tramite un procedimento chiamato ray tracing. Notate che questo ray tracing, per chi di voi ha visto esami relativi alla realtà virtuale, non c'entra nulla col ray tracing che si intende in termini di grafica, perché il ray tracing che si intende in termini di grafica è un ray tracing legato al singolo pixel dell'immagine e quindi è sostanzialmente un processo un po' particolare. In questo caso il ray tracing è proprio quello dei singoli raggi di luce. Ok? Mentre chiaramente nel ray tracing della realtà virtuale non vengono tracciati i singoli raggi di luce, ma con un processo inverso vengono tracciati i pixel dell'immagine. Ebbene, qui ray tracing è proprio per dire, supponiamo di prendere il nostro obiettivo e supponiamo di tracciare un certo numero di raggi. Questi raggi cosa fanno? Cosa faranno? Entreranno all'interno dell'obiettivo e seguiranno la legge di Snell. Cioè, questo suppongo che l'abbiate vista fisica N1 sen F1 uguale a N2 sen F2, cioè i due angoli F1 e F2 di ingresso ed uscita sono legati ai due indici di rifrazioni N1 ed N2. Ok? Quindi questo significa che se N1 e N2 sono uguali, per esempio mentre si propaga nell'aria o nel vuoto, o anche un pezzo di vetro, non vi è nessuna deviazione. Non appena viene incontrato una discontinuità nell'indice di rifrazione, l'angolo di rifrazione verrà cambiato. Naturalmente questo angolo F1 deve essere un angolo rispetto alla normale, nel senso che se io entro in un pezzo di vetro che ha un indice di rifrazione diverso dall'1 dell'aria in modo perfettamente ortogonale, non vi sarà nessuna deviazione. La deviazione sarà se c'è già un F1 di partenza, cioè se io ho un minimo di angolo. Ok? Quindi per esempio, non lo so se voi, penso che avrete già visto tutti il classico esperimento che si può fare molto facilmente, prendete un bicchiere, lo riempite d'acqua, ci mettete una matita o anche se ho una cannuccia e vedrete che da fuori sembra che la cannuccia si pieghi. Bene, ora il problema è che come facciamo a calcolare questo nuovo angolo? Beh, naturalmente potrei, mi basterebbe semplicemente calcolare il seno e sarei a posto con la legge di Snell. Ora, per cercare di dare un'idea della quantità di errore, si prende questo seno e lo si espande con Taylor. Ok? E vedete che viene sin Φ uguale a Φ meno Φ al cubo diviso 3 fattoriale più Φ alla quinta diviso 5 fattoriale più, anzi meno e così via. Ok? Quindi questo significa che se noi ci accontentiamo di prendere sin Φ uguale Φ, cioè prendiamo l'angolo pari al seno, questo vale naturalmente solo se l'angolo è piccolo, effettuiamo un'approssimazione del ray tracing al primordine, detta anche parassiale, cioè per angoli piccoli. Parassiale significa che i raggi che noi utilizziamo non non sono proprio paralleli all'asse, ma ci vanno molto vicino. Ok? Notate che questa è, diciamo, un'approssimazione molto soddisfacente. A seconda del livello di approssimazione noi avremo aberrazioni più o meno raffinate. Ok? Dopodiché, se invece noi approssimiamo sin Φ con il terzo ordine, avremo la teoria del terzo ordine. Al più, alla fine, sarà anche possibile controllare anche il quinto e il settimo ordine, in teoria infiniti ordini. Ovviamente questi ordini più raffinati sono più importanti solo se i nostri obiettivi sono altrimenti perfetti, perché se non riesco a soddisfare neppure il primo ordine in modo buono, è del tutto inutile che io vada a vedere il quinto e il settimo ordine. Ora, nel caso dei microscopi, che sono obiettivi costruiti per essere perfetti, il più perfetti possibile, il primo e il terzo ordine non bastano e bisogna spesso andare al quinto e il settimo. Quindi, ricapitolando, le aberrazioni vengono calcolate come deviazioni dalla legge di Snell nel retracing sulla base delle approssimazioni del seno al primo, terzo e quinto ordine. ok? L'approssimazione parassiale è quella più utilizzata. Bene, quindi abbiamo visto che quella parassiale è quella più utilizzata, ora vedremo il terzo ordine. Il quinto ordine non lo vedremo e neanche il settimo, quindi vedremo soltanto il terzo ordine. Ok? Benissimo. L'approssimazione di terzo ordine è associata con sette aberrazioni. Queste sono importanti perché indiziate tipi di aberrazioni non cromatiche, quindi monocromatiche, dette anche aberrazioni di von Seidel. Ricordatevi che qui ci sono sempre i riferimenti, possiamo anche mandare a pieno schermo. Qui ci sono sempre i riferimenti dei libri corrispondenti, quindi se voi volete potete andare a guardare in biblioteca o comunque individuare questi libri. per esempio questo libro, Ray, è un libro eccellente, purtroppo è difficile da trovare ed è anche molto costoso, però io per esempio un po' di anni fa me l'avevo comprato perché è davvero notevole. Bene, allora stavamo dicendo che ci sono cinque aberrazioni monocromatiche, la prima è l'aberrazione sferica, SA sferica, l'aberrazione, poi il coma, l'astigmatismo, la curvatura di campo e la distorsione. Ok? Per ciascuna di queste aberrazioni naturalmente voi siete tenuti a saperne il comportamento, ovviamente non nei minimi dettagli ci mancherebbe, ma dovete sapere quali sono i problemi che creano a livello di sistema ottico. E poi ci sono due aberrazioni di tipo cromatico, sempre del terzo ordine, che sono dovute alla variazione dell'indice di rifrazione con la lunghezza d'onda, perché naturalmente qui abbiamo visto questa approssimazione, va tutto bene, però n1 ed n2 sfortunatamente non sono sempre uguali e quindi sono sia n1 che n2 dipendenti dalla lunghezza d'onda della luce. Ok? Poi, per esempio, se io passo dall'aria all'acqua, oppure se passo da un vetro all'altro, n1 varierà con la lunghezza d'onda della luce in un modo ed n2 varierà in un altro. Quindi chiaramente... Ora, questa variazione dell'indice di rifrazione con la lunghezza d'onda introduce un problema che è l'aberrazione cromatica. L'aberrazione cromatica venne individuata con chiarezza da Newton, tuttavia Newton commise un errore perché lui sosteneva che l'aberrazione cromatica non potesse essere corretta in alcun modo, tant'è che introdusse un tipo di obiettivo fatto con degli specchi, soprattutto per i telescopi. Infatti il telescopio completamente a specchi è ancora oggi chiamato Newtoniano. Funziona molto bene, per carità, però la cosa, se volete, un po' curiosa è che uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi era convinto che l'aberrazione cromatica non fosse corregibile, mentre invece è corregibile come. In realtà, com'è che si fa a correggere? Beh, siccome il vetro della prima lente avrà una variazione dell'indice di rifrazione con la lunghezza d'onda fatto in una certa maniera, io cosa posso fare? Beh, posso andare a trovare un altro tipo di vetro, quindi i vetri naturalmente sono ottenuti mescolando silice con eventuali additivi, metalli quant'altro. Io cosa posso fare? Costruire un'altra lente fatta in un altro tipo di vetro che abbia una variazione dell'indice di rifrazione della stessa entità ma opposta. In questo modo le due variazioni si compensano. Non si riesce ad avere una variazione nulla complessiva, però gli si va molto vicino, ok? Infatti i primi telescopi a lenti avevano una lente sola e soffrivano di una fortissima aberrazione cromatica. Da qui appunto l'esigenza da parte di Newton dell'invenzione del telescopio newtoniano, ma con l'introduzione dei doppietti, cioè di due lenti fatte di due materiali diversi, il flintel crown, si ovviò in gran parte a questa aberrazione cromatica. Oggi come oggi ci sono sistemi per ridurre questa aberrazione cromatica in modo particolarmente evidente. Normalmente si usano dei tripletti, quindi con tre lenti, ma si può arrivare anche a quattro lenti. Un obiettivo fotografico di gamma alta può avere tranquillamente 15 lenti e pensate che ci sono dei dispositivi per la fotolitografia che devono avere delle precisioni particolarmente elevate perché voi capite che un sistema per la fotolitografia serve appunto per dipingere, per disegnare i circuiti sul wafer di silicio e deve avere una precisione anche geometrica eccellente. Ebbene, per questi sistemi, perché naturalmente altrimenti viene male il circuito, e questi sistemi arrivano pensati ad avere 50 lenti. Tutto questo alla fine di correggere il più possibile, naturalmente poi pensati i costi crescono in proporzione. Allora ci sono due tipi di aberrazione cromatica, uno longitudinale e uno trasversa, adesso vedremo man mano in cosa consistono. Ora, io ovviamente preferirei avere una lente perfetta, cioè quella descritta dalle condizioni di Maxwell di prima, purtroppo non esistono, e allora mi devo accontentare di una lente con un quantitativo limitato di aberrazioni. Ok? Quindi è una lente che ha un quantitativo di aberrazioni molto basso. Ok? Ora, in particolar modo, l'aberrazione sferica SA, il coma e l'astigmatismo non producono immagini stigmatiche, cioè dato un punto non riproducono un punto. Ok? Per esempio l'astigmatismo, dato un punto produce per esempio una lineetta, una crocetta. Ok? Il coma, come dice la parola coda, no? E dato un punto produce una specie di cometa, una specie di stella cometa, quindi un punto con la coda. E poi invece l'aberrazione sferica, dato un punto, produce una pallina, tra virgolette, la larga. Ok? Notate che tutte queste aberrazioni possono tranquillamente agire assieme. Se l'obiettivo non è buono, agiscono tutte assieme. Comunque, oltre a questa c'è la curvatura di campo, vedete? Quindi vedete che aberrazione sferica, coma stigmatismo, curvatura di campo. Curvatura di campo produce immagini curve, cioè se io fotografo un piano, questo piano non è più piano sul sensore e quindi mi verrà fuori fuoco. Alcune parti verranno fuori fuoco. E infine la distorsione, che è l'ultima delle aberrazioni monocromatiche, quindi non legate al colore, quindi presenti anche in luce monocromatica, cioè se io uso un laser, per esempio, avrò ugualmente, luce laser, avrò ugualmente queste cinque aberrazioni. Ebbene, la distorsione produce immagini non identiche, quindi viola la terza condizione di Maxwell. Non identiche significa che, come vedremo tra poco, la distorsione produce, per esempio, dato un rettangolo, praticamente trasforma il rettangolo, immaginate, in un cuscino, ok? Che può essere un po' più gonfio, un po' meno gonfio, tipo una botte, ok? E ora, una lente che ha una buona correzione, perfetta non si può mai avere, per l'aberrazione sferica e il coma è chiamata aplanatica. Se in più c'è anche una correzione per l'astigmatismo è detta anastigmatica, ok? Se andate a cercare su internet, troverete che i nomi di lenti non tanto recenti, di lenti di alta qualità, erano chiamate anastigmat, proprio perché avevano una buona correzione, mai ottima, ma comunque decorosa, correzione sia dell'aberrazione sferica, sia del coma, sia dell'astigmatismo. Oggi come oggi, le lenti dei vari sistemi sono in generale molto ben corrette, perché il problema principale che c'era 50 anni fa era quello di calcolare le varie curvature da dare al lenti. Solo che questo veniva fatto appunto con il sistema che abbiamo visto prima, cioè il ray tracing, che adesso vedremo nel dettaglio. Il ray tracing richiedeva, siccome non c'erano i computer, richiedeva per ogni raggio il calcolo a mano. Siccome per verificare un obiettivo ci vogliono probabilmente centinaia di migliaia di raggi, voi capite che ci volevano moltissimo tempo, dopodiché uno scopriva che c'era qualcosa che non andava, faceva la modifica e si ripartiva da capo. Oggi come oggi, questo problema non si pone più, perché il calcolatore riesce a calcolare tutti questi raggi in pochissimo tempo. E inoltre i programmi, esistono ovviamente dei programmi che permettono di progettare le lenti e i sistemi di lenti. Quello più famoso si chiama Zemax e pensate che questo programma, che peraltro costa molto caro, ha anche delle funzioni di ottimizzazione. In sostanza uno mette le lenti, mette il materiale più o meno, quindi il tipo di vetro, e poi lancia questa funzione di ottimizzazione e lui cerca di ottimizzare il tutto. L'ottimizzatore di Zemax è molto ben fatto e in generale riesce a generare lui stesso degli obiettivi, più che decorosi. Poi è chiaro che se uno vuole ottenere il massimo deve andare, deve procedere con cognizione di causa. Però in generale il risultato che si ottiene oggi è notevole. Questo significa anche che oggi come oggi anche per esempio le lenti di un telefono cellulare sono di eccellente qualità. Infatti non per niente saprete che i telefoni cellulari oggi come oggi hanno dei pixel all'interno del sensore di un micron o anche meno, con dei relativi diaframmi tipo F2, una cosa di questo genere. E se ci pensate questo significa che sono sistemi di fraction limited, perché io ho un sensore, il pixel del sensore, che è la metà, anche un terzo, del disco di ieri. Perché se è 2,2, vi ricordo che il criterio era 2,2, cioè il numero di F, quindi focale diviso diametro, e questo lo moltipliamo per 1,3. Quindi 0,22 per 3 fa 0,66, facciamo 0,7. 2,2 più 0,7 fa 2,9, facciamo 3. E circa 1 e quindi è 3 volte tanto. Vi ricordo che il minimo per effettuare un campionamento secondo Shannon è 4 volte. D'altro canto, effettuare un campionamento ideale ha senso solo se l'obiettivo è perfetto, perché altrimenti rischiamo solo di campionare degli errori. Per cui, per quanto le ottiche dei telefoni cellulari siano eccellenti, oggi come oggi, non sono perfette e quindi non converebbe neanche fare un campionamento ottimale. Per cui nel complesso il risultato è molto buono, del resto tutti noi lo vediamo sui cellulari che producono immagini di alta qualità. L'avete visto anche nel laboratorio su MTF Mapper, qualcuno di voi ha testato il cellulare, ovviamente anche per motivi pratici, e avrà visto che i risultati sono buoni, non perfetti naturalmente, ma molto buoni. Considerate che parliamo di obiettivi piccolissimi, perché complessivamente sono molto piccoli, devono stare nello spessore di un telefono. Ora, stavamo dicendo, quindi, abbiamo la nostra lente con un quantitativo ridotto di aberrazione, allora supponiamo di avere una di queste lenti a disposizione e di andare a vedere la PSF, ok, e l'MTF. Mi ricordo che questa è la Point Spread Function, quindi qui dietro, lì al centro, c'è una delta infinitamente piccola, ok? Quindi questa delta, voi capite che è una delta che io guardo a infinito. Una delta per definizione ha al suo interno tutte le frequenze spaziali, perché è infinitamente stretta, e quindi io avrei bisogno di tutte le frequenze spaziali. Quindi se io andassi a vedere di questa delta la corrispondente trasformata di Fourier, vedrei una costante. Che cos'è una costante? è una retta, sostanzialmente, con l'ordine 0, l'ordine 1, l'ordine 2, eccetera, eccetera, tutti molto vicini a formare di fatto una retta, ok? Quindi che cosa succede? Succede che a questo punto, esattamente come abbiamo visto nell'esperimento pratico, questa sfilza di puntini finisce all'interno di un obiettivo, questo obiettivo ha una certa apertura, e per la teoria di Abbe, quando la corrispondente sinusoide allarga troppo il fascio, che viene fatto divergere appunto dalla sinusoide, e questo fascio esce dall'obiettivo e non viene più catturato, e quindi l'obiettivo è per definizione un passo a basso. Dal punto di vista matematico, questa è la trasformata di Fourier di un filtro passo a basso, ok? Però ripeto, il punto dietro è un punto piccolissimo, infinitamente piccolo, ok? Una delta, ok? Bene, qui le immagini sono generate con un programma fatto apposta, non è open source, ma credo che sia sicuramente free, nel senso che si può usare liberamente, che si chiama Aberrator, che come dice il nome naturalmente serve a simulare le aberrazioni, ed è simulato per luce monocromatica. Inoltre, per far vedere meglio la slide, ho messo un gamma uguale a 2, ricorderete cos'è la visualizzazione del gamma, è stato aggiunto per una migliore visualizzazione. La stessa cosa anche per le slide successive. Notate che il diametro di ERI naturalmente dipende anche dalla lunghezza donna, perché per 1,3 è una media, data luce bianca, ma in realtà data luce blu è di meno, molto di meno, e data luce rossa è di più, molto di più, perché naturalmente vi ricorderete che il disco di ERI, l'abbiamo visto nelle slide precedenti, vediamo un po', eccolo qua. Vedete che dipende dall'F number, che è quello che vi ho detto prima, da questo numero, ma poi da lambda. Quindi se io passo, per esempio, una lambda di 350 nanometri, quindi blu qua, diciamo ultravioletto, e poi ci metto dentro un 700 nanometri, c'è un rosso molto cupo, e ho raddoppiato le dimensioni del disco di ERI, c'è poco da fare, ok? Si vedeva anche qua, ve lo ricordo, che vedete che questo è il disco di ERI nel NIR, 700 nanometri, e questo è il disco di ERI nel blu. Se ci fate caso, a parte il fatto che nel blu funzionava meno bene, però se ci fate caso, il disco di ERI nel NIR, quindi nel 700 nanometri, è molto più grande del disco di ERI nel blu, che è esattamente quello che stavamo dicendo, ok? Così come per esempio il disco di ERI a 53 mm di apertura è più grande di quello a 120 mm, però questo non c'entra niente con questo, ok? Bene, allora, stavo dicendo quindi che siccome la dimensione del disco di ERI dipende dalla lunghezza d'onda, qui noi abbiamo preso una luce monocromatica, ok? Se voi prendete un disco di ERI reale, questo disco di ERI reale ha dei colori, paradossalmente, anche se voi avete un sistema di Fashion Limited perfetto e basato su specchi. Vi ricordo che Newton aveva promosso un telescopio fatto tutto a specchi, proprio perché lo specchio riflette tutte le lunghezze d'onda nella stessa maniera. Mentre il problema delle lenti è che le lenti modificano, piegano la luce in modo dipendente dalla lunghezza d'onda, proprio perché l'indice di rifrazione, che è quello responsabile poi dell'applicazione alla legge di Snell, varia con la lunghezza d'onda e quindi automaticamente l'angolo di rifrazione cambia, ok? Nello specchio non varia mai, per cui è perfetto. Ora, quindi anche in un sistema ottico di Fashion Limited, quindi perfetto, basato su specchi, che quindi non dovrebbe risentire in nessun modo di colori, di aberrazione cromatica, si avrebbero comunque delle deboli frange rosse qui tutto intorno, proprio perché la parte, diciamo, il disco di Eri rosso è più grande del disco di Eri blu e il disco di Eri nel verde è intermedio. Tutti i colori si mescolano assieme e fanno sì che il bordo rosso rimanga. Questo è un fenomeno decisamente difficile da vedere. Per chi di voi fosse interessato, io ho realizzato un piccolo filmato che ho messo su YouTube in cui faccio dei test con delle stelle, in particolar modo per il seeing e per esempio in particolare lì mostro delle stelle doppie con i colori e si riesce a vedere queste debole frange rosse, poi si vedono anche altri colori che sono legati all'atmosfera e poi si vedono anche i colori tipici delle stelle dovute alla struttura della stella. Ora, quindi questo è un disco di Eri perfetto, di un obiettivo perfetto. Vedete che c'è un disco centrale di Eri, un primo anello più denso, poi degli anelli successivi sempre a scendere perché vi ricordo che stiamo guardando in due dimensioni questo. Vedete? Disco centrale, primo rimbalzo, secondo rimbalzo più basso e poi via via sono sempre più bassi. Notate che questo è molto molto più alto di questo. Ok? E vi ricordo anche per esempio che nel caso dello strelretio significa che io avrei questa intensità qui che sarebbe la stessa nel caso di un obiettivo perfetto, sarebbe la stessa nel caso dell'obiettivo specifico e posso dire che l'obiettivo è già buono, considerato praticamente perfetto, se è lo 0,8, quindi vuol dire se anziché essere 1 arriva fino a 0,8. Ovviamente se questo arriva a 0,8 per la conservazione d'energia, l'energia che tolgo di qua deve andare da qualche altra parte perché ovviamente viene trasmessa e quindi tipicamente finirà negli anelli successivi. Ok. Questo è il suo MTF corrispondente. Vi ricordo solo l'MTF qui, la Face Transfer Function PTF non c'è. Vi ricordo che la PTF si osserva solo in casi particolari. Avevamo visto per esempio un caso della PTF con la stella di Siemens. Ok. Però non è così facile da osservare. Quindi questa è la Point Spread Function, cioè come un punto si dilata in qualcos'altro e questo è l'MTF, cioè il fattore di trasferimento del contrasto sostanzialmente. Bene, allora adesso vedete, possiamo guardare in azione le varie aberrazioni. Allora io qui sfrutto molto brevemente dei tutorial realizzati dall'Olympus che avevamo già visto. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Eccola qui. Questa è l'aberrazione sferica. Ok. Allora vedete che io posso muovermi in questo modo e vedete che cosa succede. Vedete. Man mano che io aumento l'aberrazione sferica sto rendendo sempre più vistoso il primo anello a scapito del punto centrale. Vedete, qui è perfetto. Quindi il primo anello è molto più debole del punto. Poi man mano che aumento l'aberrazione sferica il primo anello diventa più spesso, più importante, a scapito del centro. E esagerando in modo vistosissimo si arriva addirittura ad avere questa specie di effetto rimbalzo. Questo è l'effetto sull'immagine. E dal punto di vista grafico si ha che l'aberrazione sferica fa sì che, anziché concentrarsi tutto in un punto, si concentri in una lineetta. Ok. Ebbene, per quanto riguarda l'aberrazione sferica vediamo un esempio estremo. Allora, questo è sempre calcolato con aberrator. che cosa succede quando si hanno 1,7 lunghezze d'onda di aberrazione sferica? Pessimo, veramente pessimo. Ok? In generale bisognerebbe essere a frazioni di lunghezza d'onda. Ok? Un decimo, tanto per dare l'idea. O anche un sesto, una cosa del genere. Quindi qui ne abbiamo veramente un'esagerazione. Ebbene, questo valore fa sì, come vedete, che il punto centrale sia praticamente diventato uguale agli anelli e tutti questi anelli siano diventati vistosissimi. Questi anelli sono diventati vistosi proprio perché l'energia si è trasferita dal picco centrale agli anelli stessi a causa di questa aberrazione sferica che fa sì che il fuoco, anziché essere concentrato in un punto, sia concentrato sostanzialmente su una lineetta. Perché si chiama sferica? Perché voi capite che se io ho una parabola, il fuoco nella parabola è proprio il punto in cui convergono tutti i raggi paralleli che, diciamo, colpiscono la parabola per definizione. Ok? Se io al posto della parabola ci metto una sfera, il risultato non è lo stesso. Perché non convergeranno tutti in un punto, ma convergeranno in una specie di lineetta centrata attorno al punto corrispondente alla parabola. Quel punto è chiamato caustica, quella lineetta è chiamata caustica. Caustica perché se uno mette qualcosa lì ovviamente si ustiona. Qual è il problema? Il problema è che le superfici delle lenti normalmente sono sferiche perché realizzare una lente sferica è abbastanza facile con il tornio, sia a mano che a macchina, mentre invece realizzare delle superfici asferiche, quindi non sferiche, è estremamente difficile. E una superficie parabolica non è una superficie sferica. di fatti per esempio i telescopi normalmente, per esempio il classico telescopio newtoniano ha una parabola. In realtà il primo telescopio di Newton era sferico, ma in generale perché se ci sono certe condizioni è sufficiente. Ma se il telescopio ha elevate prestazioni deve essere parabolico. Come si fa a ottenere una parabola? Si prende una sfera e la si modifica. Quindi si realizza prima una superficie sferica e poi si scava un pochetto. Il problema è che quanto poco? Perché basta pochissimo per fare un disastro. Ora, questo è il caso pensate del telescopio spaziale. Notate che il telescopio spaziale ha compiuto da pochi giorni 30 anni. Quindi è in orbita da 30 anni. Questo perché il successore del telescopio spaziale, il telescopio James Webb è in realtà in ritardo per tutta una serie di motivi. costruttivi di vario tipo. Insomma, non sono ancora riusciti a metterlo in orbita. E quindi, ovviamente, siccome il nuovo non è ancora operativo, si devono accontentare del vecchio. Accontentare si fa per dire perché il telescopio spaziale Hubble è stato uno scienziato importantissimo. È stato, per chi di voi non lo sapesse, è stato lo scienziato che ha ipotizzato per la prima volta l'espansione dell'universo. Riuscendo anche a calcolare l'indice di espansione dell'universo. Per inciso, Hubble per fare questo sfruttò in realtà dei dati che arrivarono da altri fisici, in particolar modo una donna, mi sembra che si chiamasse Henriette, che effettuò tutti i calcoli e che in effetti suggerì la cosa. Lui però era molto più famoso e quindi diciamo che approfittò della situazione, via, mettiamola così. Comunque, a parte questo, il telescopio spaziale Hubble è di qualità eccellente, però qui è come era quando fu messo in orbita. Ok? Ora, che cosa produceva questo gravissimo errore di 1,7 lunghezza di onda di aberrazione sferica? Vedete, questa è una galassia, questa era la stessa galassia vista M100, M sta per Messier, perché nel 600-700 un signore Messier francese si mise in testa di catalogare tutti gli oggetti di apparenza non stellare, lui era interessato alle comete e quindi tutti gli oggetti che non sembravano stelle gli davano fastidio e quindi aveva bisogno di un catalogo per non rischiare di sbagliarsi e si mise lì con la santa pazienza e completò un catalogo se non ricordo ma di 105-104 oggetti ebbene questa era una galassia M100 vedete l'originale e con il difetto ok ora voi capite che un difetto del genere ovviamente era comunque un ottimo telescopio ma il difetto lo rendeva praticamente inutilizzabile ok ora innanzitutto a cos'era dovuto questo difetto questo difetto era dovuto al fatto che sostanzialmente per economizzare il test era stato fatto in modo incompleto in particolar modo era stato fatto ma questa era una cosa perfettamente ragionevole il problema è che erano stati sfortunati perché per fare il test di questi specchi che sono lavorati con delle precisioni incredibili ok si parla di lambda 20 cioè di un ventesimo di lambda ricordo che lambda qui è diciamo quello del visibile è quindi 500 nanometri quindi diviso 20 fa 20 nanometri quindi questo significa che picco picco su tutto lo specchio di 2 metri di Hubble ci sono dei bozzi non più di 20 micron di altezza e scusate 20 nanometri che è micron 20 nanometri pensate con che precisione notare che questo oggetto largo 2 metri è stato preso è stato piazzato dentro lo shuttle e portato in orbita ok quindi questo per darvi l'idea della complessità del tutto ok e naturalmente non deve alterare la sua forma nonostante sia preso caricato spostato spedito in orbita ovviamente sale con un razzo che diciamo che non è esattamente il posto più confortevole di questo mondo ok comunque quello non è un problema il problema è che loro per fare i test hanno testato lo specchio principale di Hubble a confronto con uno specchio chiamato null cioè un altro specchio che serviva a verificare l'errore e sfortunatamente avevano realizzato due null perché naturalmente si ne realizza sempre un secondo perché se poi uno dei due si rompe succede un guaio e il problema è che sfortunatamente dei due null loro hanno utilizzato quello che aveva degli problemi se avessero utilizzato l'altro non avrebbe avuto problemi quindi in sostanza il telescopio spaziale aveva un errore molto grave di aberrazione sferica ebbene questo problema naturalmente produsse gravissime polemiche nella comunità di scienziati e indusse come sempre una corsa a cercare di risolvere la faccenda allora normalmente questo problema fosse stato a terra sarebbe stato pressoché irrisolvibile naturalmente fosse stato a terra sarebbe stato più facile sostituire lo specchio sostituire lo specchio nel telescopio spaziale è impossibile perché bisognava portarselo giù e rifare tutto però in orbita c'è un grosso vantaggio in orbita non c'è aria o quantomeno ce n'è quasi niente quindi questo significa che non ci sono tutte le perturbazioni atmosferiche che sono proprio quelle in effetti che si volevano evitare nel senso che il telescopio spaziale è stato messo in orbita proprio per evitare le perturbazioni atmosferiche ora qual è il problema principale delle perturbazioni atmosferiche e il rumore cioè l'alterazione dovuta all'aria per darvi un'idea di questa alterazione guardate qua eccolo qua vedete questa è turbolenza questa è aria o per meglio dire è dovuto al fatto che l'aria ha una certa temperatura ma le varie parti dell'atmosfera sono a temperatura diversa e in particolar modo l'unità minima diciamo la grandezza minima il blocco minimo di aria che ha la stessa temperatura ha una dimensione che varia da 10 centimetri nei casi peggiori fino a un metro due metri nei casi proprio eccezionali di solito siamo sui 20 centimetri ok quindi questo significa che voi avete delle bolle d'aria tutte e quella bolla ha un indice di rifrazione cioè potete considerarlo costante però a fianco c'è un'altra bolla con un altro indice di rifrazione e così via ok tutti questi vari indici di rifrazione producono delle alterazioni nel percorso del raggio lungo l'atmosfera e produce questo effetto che vedete sembra appunto come una pentola che bolle ok ora questo problema in orbita non c'era ovviamente non c'è e il fatto che questo ribollire alteri in continuazione il fronte d'onda fa sì che sia molto difficile correggere l'errore perché come si può fare a correggere l'errore lo vedremo più avanti ma io posso fare da cos'è dato l'errore l'errore è dato dall'MTF del telescopio perfetto moltiplicato per l'MTF di un oggetto una scatola nera che introduce un'aberrazione sferica ok se io lo vedo nello spazio di Fourier io cosa farò la trasformata di Fourier dello telescopio perfetto ok che quindi mi verrà un OTF dopodiché la moltiplicherò per l'OTF dell'altro ok e poi se voglio faccio l'antitrasformata ora che cosa succede succede che io una volta fatta la moltiplicazione beh basterebbe fare la divisione io ho ottenuto il risultato ce l'ho perché è quello che misuro e quindi è questa foto scadente allora io cosa faccio faccio diviso per la trasformata di Fourier della nello spazio di Fourier faccio diviso per la sola trasformata di Fourier del difetto cioè dell'aberrazione sferica e mi dovrei riottenere l'immagine perfetta peccato che non funzioni così perché questo processo si chiama deconvoluzione perché naturalmente e abbiamo visto precedentemente è una convoluzione questo processo quindi il contrario si chiama deconvoluzione abbiamo visto che si fa con le trasformate di Fourier il problema è che fare la deconvoluzione è un problema come si dice malposto cioè a caso del rumore c'è più di una soluzione allo stesso problema e noi non sappiamo quale sia però nel caso del telescopio spaziale siccome non c'è aria il problema è sempre malposto ma è poco malposto per cui pensate che erano riusciti tramite degli algoritmi di deconvoluzione che infatti proprio in quel periodo ebbero un enorme successo perché moltissimi scienziati si misero in tutto il mondo a cercare di sviluppare degli algoritmi di deconvoluzione appositi per il telescopio spaziale che era naturalmente di fondamentale importanza e i risultati furono eccezionali perché grazie al fatto che il telescopio spaziale era perfetto veramente perfetto era semplicemente sbagliato però si sapeva esattamente com'era ci conosceva perfettamente l'errore perché era uguale a quello del null che c'era a terra che era perfettamente noto e misurabile inoltre se a questo si aggiungeva il fatto dell'assenza dell'aria la deconvoluzione raggiungeva dei livelli incredibili ciò nonostante non era perfetto perché naturalmente come vi dicevo il processo non è perfettamente invertibile e così alcuni anni dopo venne programmata una missione per così dire di riparazione e lo shuttle venne nuovamente spedito in orbita accanto al telescopio spaziale e naturalmente è impossibile sostituire lo specchio principale di due metri però circa due metri però venne aggiunto sostanzialmente un gruppo ottico in pratica gli vennero messi gli occhiali e il risultato dopo la correzione della aberrazione sferica fu eccellente ora nel corso degli anni vi furono varie missioni sul telescopio spaziale e a furia di a seguito di varie missioni vennero per esempio cambiati sensori vennero cambiate tutta una serie di cose che si potevano cambiare facilmente quindi le telecamere e il risultato fu eccezionale nel senso che ancora oggi a 30 anni di distanza il telescopio spaziale si comporta in una maniera direi sublime il nuovo telescopio ovviamente sarà molto più potente ma al momento non c'è ancora quindi benissimo andiamo a vedere quindi questo era giusto per darvi l'idea di che cosa può produrre l'aberrazione sferica sull'aberrazione sferica purtroppo non c'è quasi niente da fare nel senso che come vi dicevo è incorregibile di fatto è praticamente incorregibile una volta che ce l'avete ve la tenete normalmente un obiettivo di buona qualità anzi di qualità molto buona arriva sul lambda sesti lambda ottavi lambda quarti è il minimo qui vi ricordo che abbiamo 1,7 per lambda quindi molto più grave bene coma ok questo è il coma vedete come vi dicevo vuol dire coda cometa ok quindi il disco di eric che qui dovrebbe esserci un dischetto diciamo che si allunga a formare una specie di coda anche qui naturalmente esagerato e notate che questa è un'aberrazione asimmetrica perché se voi guardate qui l'MTF vedete che questo è quello perfetto poi verticale e orizzontale qui sono perfettamente sovrapposti perché vedete che è simmetrico invece il coma non è simmetrico vedete il verticale è fatto in una maniera l'orizzontale è fatto nell'altra infatti come potete vedere i due MTF sono diversi questo è l'MTF del perfetto e questo è l'MTF del verticale e questo è l'MTF dell'orizzontale tutte immagini realizzate con Aberrator se volete ve lo scaricate e impostate i parametri e ottenete esattamente lo stesso risultato questo si può anche vedere qui quindi proviamo ad andarlo a vedere allora vediamo un po' no non è questo non è questo e vabbè allora sarà questo eccola qua vedete il coma vedete io qui è perfetto io produco un po' di coma vedete che si forma per così dire la coda ok e questo è l'effetto sull'immagine del microscopio se io adesso qui non si vede bene ma diventa appunto con la coda sostanzialmente quindi si si danneggia ok bene andiamo avanti quella successiva è l'astigmatismo l'astigmatismo vedete che cosa produce io dovrei avere un dischetto al centro con degli anelli attorno ok e allora quando sono nel fuoco un obiettivo che soffre di astigmatismo produce una crocetta una cosina del genere quando sono fuori fuoco produce una lineetta che può essere verticale da un lato del fuoco e orizzontale dall'altro lato del fuoco ok vedete che anche l'astigmatismo qui pensate che sono solo è solo a mezza lunghezza d'onda però è già tanto e produce un bel bel danno vedete che l'MTF crolla in una maniera violentissima ok quindi le immagini fuori dal fuoco sono asimmetriche se ricordo probabilmente ve lo avevo già detto però è praticamente impossibile non soffrire di astigmatismo per una persona nel senso che l'occhio umano se uno va a fare il pignolo soffre di astigmatismo per definizione perché soffre di astigmatismo perché vi ricordo che l'occhio e l'avrete visto nei corsi precedenti però l'occhio c'è la retina poi c'è il rumore in mezzo poi c'è il cristallino che è responsabile di una parte diciamo della focalizzazione poi c'è dell'altro umore e poi c'è la cornea la cornea è quella responsabile della maggior parte del potere rifrettivo infatti questo è il motivo per cui quando voi andate sott'acqua non ci vedete più bene perché la cornea non funziona più bene e non funziona più bene perché essendo a contatto con l'acqua l'indice di rifrazione dell'acqua è un indice di rifrazione molto simile a quello della cornea perché naturalmente noi siamo fatti per la maggior parte di acqua e quindi non si può più applicare la legge di Snell correttamente e quindi la lunghezza focale si modifica e quindi il sistema non funziona più va fuori fuoco in una maniera molto forte e se voi mettete la maschera subacquea siccome la maschera all'interno ha dell'aria a contatto con la superficie dell'occhio c'è dell'aria si ripristina il potere della cornea di piegare la luce ok ebbene come vi dicevo l'occhio umano è sempre per definizione soggetto un po' di astigmatismo proprio perché la cornea non è una sfera perfetta ha sempre qualche piccola irregolarità per esempio avrete probabilmente qualcuno di voi avrà già fatto l'avrà già scoperto per i fatti suoi l'avrà letto da qualche parte se una persona è astigmatica in modo significativo e ci sono parecchie persone che hanno parecchio astigmatismo soprattutto quelli che soffrono di miopia molto spesso si accoppia l'astigmatismo o la miopia e se voi semplicemente con un dito schiacciate lievemente non tanto appena appena non provoca nessun dolore naturalmente uno dei lati dell'occhio o sopra o sotto o di lato che cosa succede? schiacciandolo leggermente voi in pratica alterate la forma della cornea di poco pochissimo ma l'alterate e alterandola ovviamente se l'alterate nel modo giusto la trasformate più verso una sfera e quindi se voi soffrite di astigmatismo ottenete un piccolo miglioramento naturalmente non è una soluzione però ci sono persone che per esempio anche il fenomeno di strizzare gli occhi che molte persone usano per cercare di vedere meglio ovviamente ha una sua razza molto similare un'altra cosa molto tipica dell'astigmatismo è che l'astigmatismo dipende moltissimo dall'apertura ok? quindi dal diaframma vi ricordo che l'occhio umano è un obiettivo fotografico con una lunghezza focale di circa 17 mm più o meno 17-18 ed è un f2.8 se non ricordo male ok? come apertura massima tanto per darvi l'idea i gatti sono f09 infatti non per niente ci vedono molto bene anche in condizioni di bassissima luce e f2.8 quando è aperto ovviamente però di giorno quando per esempio c'è un sole forte il cervello comanda all'iride di chiudere il più possibile e quindi si ottiene sostanzialmente un'apertura veramente a spillo di un millimetro anche meno e in queste condizioni l'astigmatismo si presenta molto meno perché l'astigmatismo dipende in modo molto forte dall'apertura io per esempio che ho un minimo di astigmatismo non ne ho tanto ma ne ho un pochettino ho poco meno di mezza diottria sull'occhio destro di notte vedo chiaramente le stelle con l'occhio destro con una punta in particolar modo in verticale e e anche quando è buio che è in generale perché l'occhio si allarga di giorno se io guardo una diciamo dei dettagli questo astigmatismo scompare quasi completamente proprio perché la pupilla si richiude e quindi l'astigmatismo quasi completamente scompare sempre per farvi un altro esempio io penso che tutti voi abbiate guardato all'interno di un binocolo ora i binocoli sono caratterizzati da due numeri sullo scafo ok per esempio voi leggete una cosa del tipo 7 per 50 oppure 10 per 30 oppure 12 per 36 oppure 16 per 50 ecco cosa servono questi due numeri il primo numero è il numero di ingrandimenti quindi per esempio 10 per 40 significa 10 ingrandimenti 40 è la dimensione della lente quindi è 40 mm quindi per esempio un binocolo 12 per 36 avrà le lenti frontali da 36 mm di diametri di diametro e ingrandirà 12 volte la pupilla d'uscita cioè il diametro del fascio di luce che esce dall'oculare del binocolo è pari dovete semplicemente dividere il diametro della lente diviso il numero di ingrandimenti quindi faccio un esempio se voi avete un 12 per 36 saranno 3 mm di pupilla d'uscita come fate a misurarlo prendete il vostro binocolo lo prendete di giorno ma non al sole vi mettete semplicemente un posto dove c'è un po' di luce lo mettete davanti a voi che inquadri un foglio bianco qualsiasi cosa un po' illuminata e vedrete che ci sono due dischetti sui due oculari e quelle sono le pupille d'uscita se voi prendete un minimo di una squadretta andate a misurare vedrete che un 12 per 36 lì è 3 mm ok ora perché dico questo perché quella pupilla d'uscita diventa la pupilla d'ingresso dell'occhio perché ovviamente voi lo accoppiate con l'occhio quindi che cosa succede succede che se voi guardate di notte con un binocolo 7x50 ci sono sono i cosiddetti binocoli notturni quelli che usano per esempio in marina devono guardare magari al capuscolo quindi hanno bisogno di un'ampia apertura un'ampia pupilla quindi un 7x50 produce una pupilla d'uscita di 7 mm ok ci sono tantissimi perché è fatto di 7 mm perché l'occhio umano al più si allarga la pupilla 8-7-8 mm 8 quando siamo giovani 5 quando siamo un po' più vecchi ora voi capite che questi 7 mm se voi siete al buio si accoppiano perfettamente con i 7 mm della pupilla d'ingresso dell'occhio e quindi tutto il flusso di luce che arriva dal binocolo si infila perfettamente all'interno dell'obiettivo costituito dall'occhio umano piccolo problema siccome l'occhio umano molto spesso soffre di astigmatismo non in tutte le persone però in molte quasi tutte ecco anche quelli che ci vedano bene e quindi cosa succede succede che voi infilate questi 7 mm di fascio e quindi vedete dettagli molto poco luminosi perché avete un sacco di luce però in realtà li vedete male perché questo astigmatismo vi produce dei difetti infatti i binocoli cosiddetti da teatro o comunque per uso diurno hanno una pupilla d'uscita molto più piccola perché in questo modo riescono a vedere meglio perché voi capite che tanto di giorno la pupilla si restringe per causa della luce esterna e quindi voi potete avere tranquillamente 3 mm di pupilla d'uscita andate benissimo per esempio nel mio caso avendo questo residuo di astigmatismo io mi trovo meglio se il binocolo ha una pupilla d'uscita di 2 mm perché ho notato facendo proprio delle prove che quando la pupilla è di 2 mm il mio astigmatismo pressoché scompare perché è un astigmatismo lieve chiaramente se avessi un astigmatismo più forte per esempio 2 diottrie non basterebbero i 2 mm dovrei chiudere molto di più la pupilla d'ingresso oltre a un certo limite non ha nessun senso quindi a quel punto sono costretto a mettere gli occhiali ok però è molto interessante perché l'astigmatismo è quello che dà origine al classico effetto per cui quando voi guardate le stelle vedete le stelle con le punte ok le stelle ovviamente non hanno affatto le punte perché le stelle sono dei dischi di Eri con relativo a nellino di Eri voi non potete vedere nel disco di Eri e nell'anello di Eri perché non ha vita risoluzione sufficiente l'occhio umano non è un telescopio però il problema non ha non ha un'archezza focale sufficiente però ciò non toglie che vedete queste punte e queste punte appunto sono dovute all'astigmatismo residuo ed è incorregibile nel senso che di solito non si riesce a correggere ok ora vi dicevo si ha quindi al fuoco avete delle punte quindi vedete una crocetta fuori fuoco vedete delle lineette andiamo a vedere sul sistema Olympus ecco qui l'astigmatismo vedete adesso proviamo a vedere se funziona lo vediamo molto brevemente in realtà ecco adesso vedete quando io mi sposto da una parte vedete viene la PSF viene una specie di lineetta guardate anche l'immagine al microscopio come viene alterata poi vedete io qui sono in condizioni ideali quasi vedete poi mi sposto dall'altra parte viene una lineetta dall'altra parte e vedete che l'immagine qui nel microscopio ne risente molto gravemente ok qui c'è il disegno corrispondente guardatevelo pure per i fatti vostri se volete questo è a disposizione di tutti bene quindi abbiamo visto l'astigmatismo adesso vediamo la curvatura di campo allora andiamo a vedere la curvatura di campo molto brevemente allora no non è questa e quindi deve essere questa vedete la curvatura di campo è dovuta al fatto che l'obiettivo produce un'immagine che non è su un piano ma su di una superficie e quindi io vedete vedete che la mia point spread function qui si guasta questo scende è sostanzialmente l'equivalente di una sfocatura vedete sostanzialmente l'equivalente di una sfocatura ora vi faccio vedere un esempio allora vedete questo qui è un porta pellicola da banco ottico lo vedremo anzi lo vado a prendere subito così ve lo mostro ecco qua questo è interessante allora vediamo un po' se riesco eccolo qui ecco allora allora vedete questi sono dei chassis porta pellicole da banco ottico vedete che sono 4 pollici per 5 questa è la pellicola del banco ottico non so quanti di voi abbiano mai visto un banco ottico adesso ve ne mostrerò poi uno più avanti perché è secondo me interessante vedete come funzionava aveva due pellicole una davanti e una dietro quindi voi cosa facevate? lo sfilavate e ovviamente qui vedete avevate anche un piccolo gancettino che serviva per indicare se la fotografia era già stata fatta perché sennò rischiavate di fotografare due volte dopo di che vedete poi per fotografare sbloccavate questo piccolo gancettino che c'è qua e poi tiravate via questo che si chiama volé ok? in questo modo veniva esposta la parte della superficie della pellicola che poteva prendere la luce quando avevate scattato la fotografia l'otturatore si era richiuso poi lo ribloccavate e questo lo bloccavate in modo tale da evitare di fotografarlo due volte vedete qui è scritto ancora dall'ultima volta che l'ho usato saranno un po' di anni ecco allora vedete questo anche così però se non sbaglio in una di queste c'era una pellicola di prova eccola qua vedete? allora di qua credo che non ci sia niente ah no c'è anche una pellicola qua di prova è una pellicola di prova allora vedete qua vedete? allora come faccio a toglierla? vedete? aspettate qui infilo il volé vedete io di qua faccio così vedete che qui ci sono dei gancetti per evitare che devo dire che qui c'è una specie di punto in cui io infilo l'unghia e la tiro ecco questa è una pellicola notate che doveva essere proprio infilata così a mano cercando ovviamente di mettergli meno ditate possibili e questi riferimenti qui servivano per capire il lato perché naturalmente un lato ha l'emulsione e l'altro lato no questo è il lato dell'emulsione quindi naturalmente va messo dal lato dell'emulsione perché altrimenti non funziona ok? inoltre va anche infilato al posto giusto adesso lo rimettiamo dentro naturalmente va fatto al buio quindi in camera oscura questo è scontato ok? qui però ho fatto già un errore perché non l'ho inserito al posto giusto vedete che io lo devo inserire non so se si riesce a vedere ecco vedete lo devo inserire lì sotto ecco così perché poi nell'altra fessura cioè in questa qui scorre il volè ok? che poi si incastra lì dentro si chiude ora quello che però volevo farvi vedere qui guardate qua vedete questa è la lampada da tavolo allora guardate quella è la webcam vedete che cosa succede? vedete come viene deformata la lampada quando io mi metto ai bordi per esempio oppure vedete io basta che tocchi appena appena e vedete che lui si deforma non tanto ma si deforma allora questo cosa è dovuto? è dovuto al fatto che la pellicola pur essendo molto più spessa della pellicola normale non è perfettamente piatta ok? questa vedete è più o meno lo stesso si era il numero 8 era proprio esattamente lo stesso queste foto sono state fatte molti anni fa e si questo era lato emulsione diciamo se no dico fesseria ora che cosa succede? succede che vedete qui per esempio io ho fatto questa fotografia proprio con lo scopo preciso di mostrare la curvatura in questo caso noi abbiamo due problemi uno è la curvatura di campo dell'obiettivo e l'altro è il fatto che la pellicola non è piatta e il fatto che non sia piatta si vede chiaramente di qua vedete questa era qualcosa della finestra questa vedete un'antenna televisiva non può essere così storta anche il camino vedete come era modificato quindi questo significa che noi abbiamo due problemi da un lato l'obiettivo viola la seconda condizione di Maxwell e quindi non produce un'immagine piatta in più la pellicola non è piatta ok ora sono passati molti anni tenete presente che per risolvere questo problema le macchine fotografiche più raffinate quindi i banchi ottici come questi alcuni non quello che ho io ma alcuni e poi macchine molto raffinate come la Contax RTS3 e anche la Contax 645 avevano per far sì che la pellicola fosse la più piatta possibile un sistema che aveva sul pressa pellicola posteriore aveva dei forellini e da lì aveva una pompa vuoto che aspirava non so se avete presente quei giochi che si trovano nei centri commerciali in cui voi avete un dischetto che vola a grandi velocità su un tavolo tipo calcio ok e questo dischetto vola letteralmente perché la superficie ha tutta dei forellini e da questi forellini esce dell'aria e quest'aria forma un cuscino d'aria e quindi il dischetto vola appoggiato su quest'aria notate che questo sistema viene usato anche a livello industriale perché per esempio nelle macchine industriali c'è un problema il problema è che quando voi avete delle guide che portano a spasso degli assi motore e se voi le faceste facendo andare ad attrito voi come potete fare? li fate andare ad attrito e non durano molto li lubrificate disastro perché se voi questa cosa la usate per fare certe cose questa lubrificazione vi macchia tutto quindi non va bene altra possibilità tenete il tutto con dei cuscinetti a circolazione di sfera in qualche maniera poco pratico ok allora è il sistema che si usa quando si vogliono le maggiori prestazioni possibili è il cosiddetto sistema pneumostatico praticamente voi cosa fate? avete i due pezzi che devono stare a contatto ma non a contatto cioè devono stare separati di pochissimo che sono tenuti assieme da un magnete permanente quindi in condizioni normali sono appiccicati tenuti assieme da un magnete permanente cioè uno dei due assi a un magnete permanente quando lo volete utilizzare prendete l'aria compressa e tramite dei forellini messi sull'altro e quest'aria compressa esce quest'aria compressa trova ovviamente l'opposizione del sistema inferiore però poco a poco esce e riesce a distanziare i due assi di qualche decina di micron proprio niente siccome il tutto è lavorato con una precisione elevatissima in pratica i due sistemi galleggiano uno sopra l'altro con un piccolissimo cuscino d'aria in mezzo ok per inciso è un sistema molto simile a quello che si utilizza negli hard disk perché gli hard disk hanno la puntina che non tocca al disco viaggia a una piccola quota sopra il disco grazie appunto ad un cuscino d'aria ebbene in questo caso con i sistemi pneumostatici voi riuscite a rimanere a una lievissima distanza dal sistema qui l'idea sarebbe esattamente il contrario cioè uso un sistema a vuoto cioè io faccio l'uoto in questo modo la pellicola viene per così dire costretta ad appiccicarsi tutto questo però è divenuto completamente superato perché ovviamente negli ultimi anni hanno preso piede completamente i sistemi digitali e voi capite che chiaramente il sistema digitale non ha più problemi perché è piatto per definizione però c'è un problema e cioè il problema è che comunque l'aberrazione della curvatura di campo c'è ancora allora a me è capitato di vedere quindi cosa vuol dire? vuol dire che il sensore adesso è piatto quindi il problema che vi ho fatto vedere prima non c'è più ok? il sensore è piatto però quello che non è più piatto quello che rimane non piatto è l'obiettivo allora siccome correggere la curvatura di campo la curvatura di campo è un'aberrazione molto difficile da correggere in fondo non è grave perché provocano solo una sfocatura allora l'idea che io ho visto in alcuni brevetti per esempio della Sony è quella di dire ok facciamo il sensore curvo nel senso che il problema della pellicola era che in alcuni tipi di telescopi per esempio le cosiddette camera di Schmidt grazie a un sistema pneumatico quindi anche lì a vuoto si costringeva la pellicola ad assumere una forma che fosse del tutto equivalente alla curvatura di Petzval cioè quella che induce la curvatura di campo ok? con un sensore non potete non potete forzarlo perché se no si spacca però potete costruirlo già curvo ok? e io ho letto di brevetti di grandi produttori soprattutto di sensori quindi principalmente la Sony che avevano come scopo proprio quello di produrre dei sensori già curvi con una curvatura progettata apposta per compensare la curvatura di campo in questo modo voi avevate che il sensore compensava già di suo la curvatura di campo naturalmente non dovevate più correggere la curvatura di campo nell'obiettivo con un grandissimo vantaggio anche perché di solito correggere un'aberrazione significa danneggiare le altre quindi in questo modo non avevate più problema e inoltre in questo modo voi avevate un'immagine di qualità maggiore il problema qual era? è che naturalmente che infatti io non ho ancora visto questo tipo di sensori poi può darsi che li utilizzino soprattutto nei smartphone però non lo so perché ovviamente bisognerebbe capire all'interno come sono fatti anche perché la curvatura non è tanta il problema principale è che voi dovete accoppiare in modo impeccabile il sensore con l'obiettivo perché naturalmente la curvatura di campo deve essere perfettamente giusta perché altrimenti siamo da capo ok? bene vediamo ancora un'ultima aberrazione poi ci fermiamo e ripartiamo dopo con le aberrazioni legate ai colori allora l'aberrazione l'unica aberrazione che manca in questo elenco che avevamo qui vedete abbiamo l'aberrazione sferica al coma l'astigmatismo la curvatura di campo ci manca solo più la distorsione la distorsione come dice il nome semplicemente distorce l'immagine ok? quindi se voi avete un quadrato questo quadrato non è più un quadrato ed è dovuta dal punto di vista ottico alla posizione sbagliata dello stop di apertura cioè del diaframma ok? in un sistema di lenti sottili e separate cioè tutti gli obiettivi attuali sostanzialmente ok? attenzione questa distorsione non va confusa con la distorsione dovuta alla prospettiva quindi per esempio se voi guardate un grattacielo dal basso questo grattacielo vi sembrerà fatto a forma di cuneo ok? naturalmente non è affatto così ed è una distorsione dovuta alla prospettiva un effetto di prospettiva ok? così come se voi vi mettete estremamente vicino a qualcosa vedete che ci sono parti dell'oggetto più grandi parti dell'oggetto più piccole appunto per motivi di prospettiva ma questo non è un problema di prospettiva perché la prospettiva è un discorso questo è la distorsione dell'obiettivo tuttavia se voi permettete di avere una forte distorsione a barilotto riuscite ad ottenere un fenomeno riuscite a guadagnare qualcosa nel senso che è sempre una coperta voi tirate una parte e perdete dall'altra e in questo caso se voi permettete una forte distorsione ottenete un'illuminazione molto più uniforme cioè non dovete soddisfare la legge del coseno a quadrato che vedremo più avanti questo è un sistema che viene usato nel fisheye cioè negli obiettivi che vengono usati per esempio per la videosorveglianza in alcuni casi comunque vediamo la definizione di distorsione allora data r grande l'effettiva altezza dell'immagine ok supponiamo che sul piano pellicola debba essere non lo so 10 mm e r è quella teorica quindi scusate 10 è quella teorica e che ne so 8 è quella che voi misurate dovuta alla distorsione la distorsione è r-r diviso r in percentuale allora se d è positivo è a cuscinetto se è negativo è a barilotto ok adesso qui non so se l'avevo no non l'avevo neanche preso francamente non è un problema comunque potete facilmente immaginare cosa succede nel senso che se voi avete un reticolo questo reticolo si manipola e quindi come dice a cuscino quindi immaginate di vedere un cuscino con due bordi e a barilotto ok bene direi che possiamo fermarci qui per la prima parte di vedere un cuscino